E' tutto pronto nelle marche per l'avvio della campagna di vaccinazione agli over 80. Nei tre siti predisposti nella provincia di Pesaro e Urbino la macchina organizzativa è al lavoro da settimane. Oggi pomeriggio gli ultimi ritocchi e i sopralluoghi dei vertici dell'Asuraria Vasta 1 e poi domani si parte. Nel centro sociale della Celletta a Pesaro sono attesi 672 anziani, a Rosciano di Fano 342 mentre a Urbino 336. A Pesaro sono state allestite otto postazioni, quindi avremo otto infermieri o assistenti sanitarie che vaccinano e quattro medici che raccolgono l'anamnesi e valutano se sussistono controindicazioni e andando ancora a Monte la fase di accettazione che sarà gestita da quattro amministrativi. A Fano ci sono quattro postazioni, anche queste ovviamente allestite con box, due postazioni mediche e due postazioni infermieristiche. Urbino è la replica di Fano come numero di postazioni di medici e di amministrativi e il sito è presso il palazzetto dello sport, il palacarnerolo. Al personale dell'Asur si aggiungeranno i volontari della protezione civile della Croce Rossa. Ciascuna postazione sarà fornita di tutte le strumentazioni mediche necessarie per far fronte ad ogni tipo di emergenza, malori compresi. Inoltre, ci ha spiegato Carlotti, i tempi per ogni vaccinazione sono di circa 25 minuti comprensivi dell'attesa post somministrazione per verificare eventuali reazioni avverse. Il vaccino somministrato, ha precisato invece il dottor Liverani, sarà quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech che è rivolto proprio alle persone più fragili. Il vaccino, nello studio fatto recentemente, che ha interessato circa 44 mila persone, ha dimostrato un ottimo profilo di efficacia, intorno al 95-96% e di sicurezza. Effetti collaterali, come tutti i vaccini ci potranno essere, nella grande maggioranza dei casi saranno effetti di lieve entità, quindi reazioni locali, dolore, arrossamento nel sito di iniezione, un malessere gerale, stenia. A volte, un caso su dieci, c'è un ingrussamento di linfonodi o molaterali nel punto di iniezione e poi, come tutti i vaccini, ci si possono verificare delle reazioni allergiche gravi, però la letteratura riporta che la casistica di questi eventi è veramente limitata. I tempi stabiliti, aggiunto poi il dirigente Montalbini, sono piuttosto serrati e per favorire lo svolgimento dell'attività è fortemente consigliato arrivare sul posto con i moduli già compilati. La documentazione si può scaricare dal sito dell'Asur, cioè la scheda anamnestica. Il modulo di consenso alla prestazione sanitaria è quello del trattamento dei dati personali. Abbiamo avuto prenotazioni per 12.064 assistiti, ovvero 80, e per quanto riguarda le vaccinazioni dopo il 12 marzo, a fronte di disponibilità di 8.738, 3.327. Il totale ad oggi è 15.391. Teniamo conto che le disponibilità erano 22.174, quindi siamo all'interno di questi numeri. La quantità delle disponibilità era riferita rispetto a un 70% circa, stimato, della popolazione ovvero 80 della nostra provincia.